Cari amici di GS Radio, tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla vostra sindacchessa, diciamo. Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Bastianusa. Oh, zucchero Rocco, zucchero in testa pressata. Ah, c'è gente. Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Ci sono le feste di Già e Buon Natale, Anno Nuovo e felicità. Buongiorno, buongiorno, sono il signor Cire. Tanti auguri di Buon Anno e Felice Anno Nuovo e Stato Vaporte. Scusami, scusami, ti interrompo dallo Stadio Olimpico in Roma per augurare a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo a voi, studia. Salve, sono Filippo e ti vende l'articolo senza inghippo. Vi volevo vendere per queste feste gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Oh, su via, dal vostro dante alieri e tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Checus, checus, veramente. Anche dal magnicolo di Iberi e degli Terucchi, tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Anche dagli Portolini e del vostro vecchio Romano Prodi e tanti buoni auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Un sacco buono, un sacco positivo e un sacco di auguri di Buon Natale e del vostro Mimmo. Anche io mi aggrego a tutto lo staff di GS Radio e di Fusi di Testa e con le mie grandi mani vi auguro tanti auguri di Buon Anno e di un Felice Anno Nuovo. Dai che ce la fate, dai, il vostro Gianni Morandi. E anche da parte mia, che sono il Presidente del Consiglio, più affascinante e più bello che ci sia stato nella storia d'Italia, tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, la mi consenta. Ambedio, che siete dimenticati di me, è Franco vostro al Gialataro. Tanti auguri di Buone Feste pure da parte mia e che l'Anno Nuovo vi porti tanti bei Giaccioli all'acqua frizzante, vero? Ciao, sono Aesio, il quadrico di Cesseritio e vi auguro Buone Feste. La vostra Miss Alexis vi augura un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo. Tanti auguri. Ogni giorno è un'occasione per gustare il candettone. Da Daniele e la tua caramella su misura, auguri di Buon Natale a tutti gli ascoltatori di Fusi di Testa. Ma il candettone era il panettone con tanti canditi o un candito gigante senza panettone? C'è chi scarta i canditi dal panettone e chi scarta il panettone dai canditi. Con questo dilemma e con tanta flemma, da Marco, tanti auguri di Buon Natale agli ascoltatori di Fusi di Testa. Che un Buon Fusi devono essere pure loro per ascoltarci. Bene popolo di Giaccioli e di Fusi di Testa. Io sono Daniele Antonio Battaglia, conosciuto come Rugantino, e mi aggrego anch'io insieme agli altri speaker e personaggi della nostra emittente per farvi gli auguri di un Buon Natale e di un felicissimo anno nuovo. Merry Christmas and Happy New Year!